Ciao segno del toro, amici single del toro, eccoci a voi, vediamo come sarà il vostro mese di maggio in amore. Poi, come ho fatto anche con la riete, vedremo nello specifico il nome e la donna, adesso vediamo in generale. Allora, segno del toro amore maggio, segno del toro amore maggio, maggio in amore per il single del toro. Single del toro amore maggio, single del toro amore maggio. Qui c'è voglia di comunicazione. Il toro ha proprio nella sua testa una voglia matta di famiglia. Vuole avere proprio questo successo in famiglia, vuole qualcosa di veramente importante. È un segno del toro un po' in disequilibrio, un segno del toro che comunque sta cercando di eliminare energie non un po' negative. È un bellissimo messaggio quello per il segno del toro. Vediamo quindi tra maschile, cioè tra l'uomo e la donna, che cosa vi succederà in amore. Quindi, mi ero persa le carte. Vediamo prima l'uomo del toro, single, amore. Toro, single, amore. Qui siete single da tanto tempo, eh? Per alcuni di voi si è single da tanto tempo. Quindi, toro, single, amore maggio. Single per il toro, mese maggio. Un po' non ci crediamo neanche più. Abbiamo un po' paura dell'azione. E una bella unione per l'uomo del toro nel mese di maggio la vedo. Basta che lasciate da parte uno stato di illusorio. E avrete un successo personale. Allora, qui si è single da molto tempo. Non ci si crede quasi più. Ma forse sono arrivati i tempi giusti. È arrivato il momento, mi viene da dirvi. Qui c'è da lasciare un po' da parte delle illusioni. Incominciare a spogliarsi della corazza che ci siamo costruiti. E per il segno del toro io un incontro lo vedo. Un'unione la vedo. Vediamo un po'. Secondo me, dopo parecchi conflitti interiori, questa persona è una persona nuova, mi viene da dire. Non c'è un ritorno dal passato. Mi viene proprio da dirvi che è una persona nuova. Una persona che non è in questo momento anche lei un po' sofferente. Comunque anche lei con dei trascorsi che l'hanno un po' trasformata. Mi viene da dirvi che qui c'è da... Proprio mi viene da dire che è una persona nuova. Avrete ancora un pochino da aspettare. Secondo me non è proprio imminente. È più verso la fine di maggio. Ed è una persona che vi farà sentire veramente importanti. Complimenti segno del toro. Per l'uomo del segno del toro. Quindi mi è piaciuta sta cosa. Già il fatto di vedere che è una persona nuova mi consola tanto. Vediamo invece per la donna del toro. Donna single toro maggio. Donna single toro maggio. Donna single toro maggio. Donna toro single maggio. Donna toro single maggio. Donna toro single maggio. non c'è un singolo non c'è un singolo allora la donna del toro è una donna che in questo momento non si sente così passionale come realmente è una donna che non si sente meritevole una donna che non è nel suo pieno potere è una donna che al momento sta ferma non in attesa è un attimo ferma secondo me nei suoi pensieri nelle sue nel suo mondo mi le da dire è una donna che cerca il giusto equilibrio in un rapporto qui secondo me alcuni devono chiudere ci si sentono le donne del toro complete anche da sole sono donne che hanno dei rimpianti sono donne in disequilibrio che stanno ancora facendo un lavoro su se stesse è una donna che spesso ha voglia di comunicare ma è ancora in questa energia di lavorare su se stessa in questa energia di disequilibrio in questa energia dove i rapporti secondo me non sono ancora nei suoi proprio nei suoi pensieri non c'è neanche la voglia di un rapporto anche perché mi da proprio la sensazione che o è come dico io o posso stare da sola decido io qual è il giusto e qual è lo sbagliato e qual è il giusto dare giusto avere se do quanto ricevo se ricevo quanto do è una donna che si in questo momento ha dei rimpianti ma in questo momento non pensa ad un rapporto di coppia proprio nella maniera più assoluta è una donna che si sente completa da sola è una donna che o si fa come dico io o te ne puoi stare dove sei e se posso permettermi questo non è proprio il giusto equilibrio di un rapporto ma questa è una mia cosa personale con questa donna regina di bastoni al contrario che dopo comunque mi chiude la stesa con questa regina di spade che voi ovviamente non vedete ok ora sì questa regina dicevo di bastoni al contrario mi fa capire che state lasciando da parte quello che è la vostra passione che state lasciando siete un po bloccati il termine giusto non è che state fermi ma siete un po bloccati nei vostri pensieri cercate il giusto equilibrio in un rapporto ma il giusto equilibrio secondo me è quello che dettate voi non è un reale equilibrio e di conseguenza vi sentite anche complete da sole dovete lasciare questo questa questa corazza che vi siete creati non essere sempre così glaciali non essere sempre così anche con le parole soprattutto con le parole taglienti dovete un attimo ma con questo quattro di spade direi che lo state anche facendo dovete un attimo riconnettervi proprio qui dovete mettere in equilibrio i i vostri lati ombra i vostri lati luce in quanto secondo me non avete delle paure e delle neanche necessità ma proprio questi pensieri di o si fa come dico io oppure niente non è un giusto equilibrio per un rapporto è un femminile che sta pensando molto al lavoro si sta dedicando molto al lavoro e dicevamo che da sola si sente completa quindi per questo mese di maggio nei single io grosse novità non le vedo quindi segno del toro lasciatemi un like un commento fatemi sapere se vi siete ritrovati se volete vedere la vostra situazione personale scrivetemi a talocchi polveri di stelle chioccio a gmail.com e per quanto riguarda il segno del toro ci vediamo nel prossimo video ciao ciao